Cristian Ghedina Stai usando il cervello? Consapevolissimo di quello che facevo A un certo punto ho adaccato un giornalista in camera mia che è venuto dentro che nessuno gli ha detto di entrare, è entrato dentro in camera lì che si che spucciava tra i libri delle cose che faceva fotografie E poi nel 91 una botta pazzesca in autostrada tra Milano e Torino 9 giorni di coma all'ospedale di Ro Pensavo che dicessi una botta di c***o Una botta pazzesca in incidente